Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Saluto a tutti i nostri ascoltatori Quella di Vere Tue è una vera e propria telenovela del calcio mercato Viola La Fiorentina non intende smuoversi da una richiesta di 30 milioni Da registrare il possibile inserimento nella trattativa come contropartita Da parte del Napoli di Unas Rog Mentre da parte della Roma di Defrel Un altro giocatore dato per partente è Giovanni Simeone Reduce da una stagione decisamente sottotono Il ciolito dopo il naufragio del trasferimento al Sassuolo Piace all'Atalanta di Gasperini Che però come prima scelta punta a Joao Pedro del Cagliari Per Fiorentina1.com Lorenzo Sommigli Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola